E' allarme per la violenza politica in vista del voto, dopo le aggressioni di mercoledì domani a Roma una manifestazione per dire no al fascismo, tensioni anche a Palermo. L'Italia si prepara a votare con il Rosatellum, come funziona la nuova legge elettorale e quali sono le incognite della nuova scheda. Elezioni, boom di indecisi tra i giovani, sul fenomeno interviene ai nostri microfoni l'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli. Un movimento contro le armi a Washington il 24 marzo, una marcia degli americani per dire basta alla violenza ma Trump risponde armiamo gli insegnanti. Al bambino Gesù un videogioco che combatte l'ansia e il dolore dei bambini malati, il progetto coordinato dal professore Alberto Tozzi. Lo stato sociale Rivelazioni di Sanremo lancia il suo nuovo album Primati, l'intervista di Lumsanews alla band bolognese. Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del Tg di Lumsanews in apertura al clima di violenza politica alimentato dalle recenti aggressioni. Intanto a Roma si prepara la manifestazione dell'Ampi mentre Forza Nuova prepara un comizio a Palermo. Il servizio è di Dino Cardarelli. Noi oggi possiamo dire con grande chiarezza che ci sono le condizioni perché sia garantita la possibilità per ciascuno di poter manifestare liberamente sapendo che c'è un limite invalicabile ed insuperabile. Quel limite è la violenza. È un clima avvelenato dalla violenza politica, quello che si vive in questi giorni in Italia a poco più di una settimana dal voto del 4 marzo. Dopo l'aggressione al segretario provinciale di Forza Nuova a Palermo e l'accoltellamento con il militante di potere al popolo a Perugia, una vera e propria guerriglia urbana si è scatenata ieri sera a Torino quando un gruppo di manifestanti antifascisti ha cercato di raggiungere l'hotel dove il leader di Casa Pound, Simone Di Stefano, stava tenendo un comizio, trovando l'opposizione della polizia. Nei rafferugli sono rimasti feriti sei agenti del reparto mobile, colpiti da bottiglie e bombe carta, mentre due manifestanti sono stati bloccati e uno trattenuto è stato di fermo. Ed è alto l'allarme per le due contrapposte manifestazioni in programma domani pomeriggio. A Roma l'AMPI guiderà la marcia Mai più Fascismi, che si snoderà da Piazza della Repubblica a Piazza del Popolo e alla quale prenderanno parte oltre 20 associazioni tra le quali il PD e la CGL. A Palermo è invece previsto il comizio del leader nazionale di Forza Nuova Roberto Di Flore, due eventi che preoccupano il Viminale, soprattutto per il rischio di infiltrazioni da parte degli esponenti dell'estrema sinistra. Ci sarà perciò un ampio rispiegamento di forze dell'ordine, specie nella capitale, per evitare ulteriori scontri. Un brutto caso di cronaca a Roma è stata imbrattata con scritte svastiche la lapide commemorativa di Aldo Moro e della sua scorta in Via Fani a Roma. L'antiterrorismo indaga sui presunti responsabili. Il servizio è di Siria Guerrieri. Due svastiche e la lugubre scritta «Morte le guardie», tracciate nella notte tra martedì e mercoledì con una bomboletta spray. Non su un muro qualunque, ma sulla lapide dedicata ad Aldo Moro e ai cinque uomini della sua scorta, trucidati dalle BR all'incrocio tra Via Fani e Via Stresa. Un atto vandalico, un messaggio particolarmente violento, a meno di un mese dall'anniversario del rapimento del presidente della DC, nel quarantennale di quel 16 marzo 1978 che cambiò per sempre la storia dell'Italia repubblicana. Ma soprattutto si tratta di un'azione di forte stampo politico, opera di esponenti della galassia dell'estrema destra, neofascisti attratti forse dalla brutalità del massacro compiuto dalle BR. Lo sfregio alla lapide di Moro è un insulto vergognoso alla storia del nostro paese, ha sottolineato il ministro della Giustizia Andrea Orlando. Un insulto ai tanti servitori dello Stato che hanno perso la vita in quegli anni terribili è il commento dei familiari delle vittime della strage che preparano la cerimonia di inaugurazione del nuovo monumento. Per individuare gli autori, l'indagine è stata affidata al pull antiterrorismo della Procura di Roma. Un ultimora che arriva dalla nostra redazione, il differenziale di rendimento tra il boom del BTP torna sopra i 140 punti base, superando il picco segnato ieri dopo i timori espressi dal presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. Passiamo alle elezioni politiche del 4 marzo. Diamo uno sguardo a quello che saranno i, scusate, il nostro Davide Di Bello ci spiega qui in studio quali saranno appunto i punti della nuova scheda elettorale. A te Davide. Buongiorno Valerio, sì grazie. Andiamo a tentare di spiegare agli italiani come funzionerà, come si voterà il 4 marzo con questa legge elettorale un po' complicata. Il nuovo Parlamento verrà eletto con un sistema misto, come vediamo dalla grafica, per il 64% proporzionale, per il 36% maggioritario. Cosa significa questo? Che due terzi dei nuovi deputati e senatori verranno eletti con un sistema proporzionale di lista, nei quali i seggi saranno assegnati in base alla percentuale di voto ottenute dalle singole liste nei collegi plurinominali. Il restante terzo invece verrà eletto in collegi uninominali, nei quali si aggiudicherà il seggio, il candidato che avrà ottenuto anche un solo voto in più del suo avversario. Vediamo come tutto ciò si traduce in numeri concreti. Nella nuova Camera saranno 386 i deputati eletti nei collegi plurinominali e 232 negli uninominali. Nuovo Senato invece 193 i senatori eletti nei plurinominali, 116 invece negli uninominali. Ricordiamo che esistono due soglie di sbarramento. Non entreranno infatti in Parlamento le liste che non supereranno il 3% o una coalizione che non arrivasse al 10%. Saranno 18 invece i parlamentari che verranno eletti dalle circoscrizioni estere, ossia dagli italiani non residenti nella penisola. Vediamo nel dettaglio adesso come voteranno gli italiani il 4 marzo. Gli elettori si troveranno davanti due schede, una rosa per la Camera, una gialla per il Senato. Come è composta questa scheda? In alto ci sarà il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale sotto il simbolo della lista o delle liste a lui collegate che lo supportano, accanto i candidati nel listino plurinominale bloccato. L'elettore potrà tracciare una scheda sul simbolo votando la lista. In questo caso il suo voto si estenderà anche al candidato nel collegio uninominale. Oppure potrà anche votare il candidato nel collegio uninominale, ma in questo caso il suo voto verrà ripartito percentualmente alla lista o alle liste che lo sostengono. Potrà anche tracciare un doppio segno sia sul candidato nel collegio uninominale che sui simboli della lista o delle liste che lo sostengono. Il voto sarà valido anche in questo caso. La scheda invece sarà nulla se l'elettore traccerà un simbolo sui nomi dei candidati nei collegi plurinominali. Non è infatti consentito esprimere preferenze. In questo caso la scheda verrebbe annullata. Non è inoltre previsto il voto disgiunto. Cosa significa? Che l'elettore non potrà tracciare un candidato in un collegio uninominale e dallo stesso tempo una lista che non lo supporta. In questo caso la scheda sarà nulla. Quella del voto disgiunto è un'opzione invece è consentita che avranno a disposizione gli elettori di Lazio e Lombardia che nello stesso giorno dovranno anche votare per rinnovare i rispettivi consigli regionali. Perciò per loro sarà possibile votare il nome del candidato governatore ed allo stesso tempo un'altra lista che non lo supporta. Per loro sarà anche possibile esprimere due preferenze a patto che una sia un uomo e un'altra una donna. Altrimenti varrà solo il voto per il candidato governatore. Che dire? È tutto e ripasso a te la linea, Valerio. Grazie Davide. Ci spostiamo negli Stati Uniti dove l'ennesima strage in una scuola in Florida ha riaperto il dibattito sul libero uso delle armi a Washington. Il 24 marzo ci sarà una manifestazione per dire basta alla violenza ma è polemica per Trump che dichiara armiamo gli insegnanti. Giordano Contu. Migliaia di americani in marcia il prossimo 24 marzo lungo le strade della capitale Washington per chiedere ai politici di mettere fine alla violenza armata. La conduttrice, Ofra Winfrey e la torre George Clooney con la consorte Amal, hanno donato un milione di dollari per la March of Our Lives. A sostenere la manifestazione anche Barack Obama e la moglie Michelle. Le associazioni chiedono di ripristinare i limiti sulle armi automatiche, cosiddette da guerra, e puntano il dito contro i membri del congresso, colpevoli di non impegnarsi contro la violenza armata nelle scuole. Il motivo sarebbe il lungo elenco di politici che accettano contributi della NRA, la potente lobby americana delle armi. Nonostante le proteste Donald Trump rilancia. Nell'incontro alla Casa Bianca con gli studenti sopravvissuti alla strage nella scuola di Parkland, il presidente americano ha proposto di armare gli insegnanti. Dure le proteste dentro e fuori la residenza contro la figura dell'insegnante giustiziere. E su Twitter annuncia un passo indietro di facciata. Durante l'incontro in Florida fra i familiari delle vittime ed esperti, una madre ha chiesto che i professori siano armati di conoscenza per prevenire le stragi e identificare i ragazzi a rischio. Trump cerca un difficile equilibrismo. Vuole soddisfare i familiari delle vittime senza alienarsi il sostegno della NRA, tutto in vista delle elezioni del Mediterraneo di novembre, in cui si voterà per la Camera dei rappresentanti, il Senato e i governatori degli Stati. Facciamo un passo indietro e riparliamo di elezioni. È arrivato il servizio di Luisa Vittoria Amen e Valerio Del Conto. Il 4 marzo, infatti, sarà decisivo il voto degli indecisi. Un giovane su due non ha ancora deciso se recarsi alle urne. Vediamo il servizio. Sondaggi fermi ed elettori sempre più indecisi, soprattutto tra i giovani. Circa il 30% degli italiani è ancora incerto su quale partito votare. Di questi, una buona parte è composta da ragazzi, universitari e liceali. Ad oggi, tra i nuovi elettori, solo uno su due si dice sicuro di andare a votare. Una ricerca di Scuola.net attribuisce la responsabilità alla poca informazione e alla scarsa fiducia verso i partiti da parte dei giovanissimi. Ne ha parlato anche l'ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, a margine di un convegno all'Università all'Umsa. Come si sveglierà l'Italia il 5 marzo, secondo lei? Secondo me ci sarà un voto forte di protesta. Non si capisce manco molto bene verso cosa. Il tema è disaffezione, scoramento, distanza e senso di inutilità dell'esercizio del voto presso moltissimi elettori. Siccome oggi questo vale, secondo i sondaggi, 35-40-45% dell'elettorato, una parte dell'elettorato rimarrà a casa e una parte magari all'ultimo momento tradurrà questa sua incertezza o in un voto contro, allora vinceranno nettamente le forze, virgolette, contro, oppure recupererà un voto di maggiore, come si può dire, più mainstream. Un'ultima ora che arriva dalla Siria proseguono infatti i bombardamenti aerogovernativi siriani sulla Guta, l'area est di Damasco, controllata dai gruppi armati delle opposizioni, dove si trovano tuttora circa 400 mila civili assediati. Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria il bilancio sale a 417 civili uccisi, tra loro ci sono anche 96 minori. Ma parliamo ora di salute, al Bambin Gesù di Roma è stato sperimentato infatti un videogioco creato da una start-up italiana che aiuta i piccoli pazienti oncologici ad alleviare gli effetti delle terapie. I dettagli nel servizio di Carmelo Leo e Antonio Scali. Trasformare la terapia in gioco attraverso la realtà virtuale è aumentata e questo è l'obiettivo di un nuovo videogioco che l'ospedale Bambin Gesù di Roma sta sperimentando per alleviare ansia e dolore nei piccoli pazienti con patologie oncologiche. Il servizio, fornito dalla start-up Tommy, permette tramite un visore di coinvolgere i bambini nella proiezione di video e immagini di ambienti rilassanti o di fantasia. La distrazione nel bambino provoca intanto una distrazione dalla ansia che riguarda le procedure mediche che spesso sono dolorose. C'è un effetto specifico poi di questo tipo di approccio sul dolore. Le procedure dolorose sono meno dolorose e non c'è bisogno di somministrare alcuni farmaci che abitualmente invece si usano per questo. Spesso si pensa che servizi del genere vengano scelti tra una gamma di prodotti già progettati. Noi vorremmo invece capovolgere la logica e portare invece le start-up che sono naturalmente disponibili a collaborare in un percorso di sviluppo, a dialogare con noi perché noi proponiamo i problemi e loro devono proporre delle soluzioni che sono adatte ai nostri problemi, a risolvere i nostri problemi. Ancora polemiche tra il Comune di Roma e i ragazzi del Cinema America per il bando del concorso istituito in piazza San Cosimato. Il servizio è di Gloria Frezza e di Nensi Calarco. Prove di disgelo tra i ragazzi del Piccolo Cinema America e il Comune di Roma. Gemma Guerrini, la vicepresidente della Commissione Cultura, che aveva definito il Festival di Cinema all'Aperto organizzato dal Piccolo America in piazza San Cosimato, una riunione di feticisti che rivedono ossessivamente vecchi film, si è dimessa ieri. La decisione è arrivata su invito della sindaca Virginia Raggi, dopo la firma da parte di 180 attori e registi, tra cui Martin Scorsese, della petizione organizzata dai ragazzi dell'America. Il cinema a noi piace, lo difendiamo e lo difenderemo, dice la sindaca, ma il bando su piazza San Cosimato, per l'estate, resta. I giovani, invitati in Campidoglio il 15 marzo, hanno ribadito le parole del loro leader Valerio Carocci. Questo è il più grande atto di censura politica e culturale che l'amministrazione politica sta compiando nei confronti della città. In un post di ieri su Facebook hanno detto, viva la cultura libera, viva la vita. Musica e politica, lo Stato Sociale, la band arrivata seconda al Festival di Sanremo, è in tour in tutta Italia per presentare il suo nuovo album Primati. Li hanno sentiti per noi i nostri Fabio Simonelli e Antonio Scali. Volevano arrivare penultimi, alla fine ci sono riusciti, ma al contrario. Dopo il secondo posto al Festival di Sanremo, la band bolognese dello Stato Sociale è in tour nelle principali città italiane per promuovere la propria raccolta, Primati. Un successo testimoniato dai numeri. Il singolo, portato sul palco dell'Ariston, una vita in vacanza, ha già oltre 14 milioni di visualizzazioni su YouTube. È al primo posto tra i brani più condivisi in Italia su Spotify ed è il singolo più venduto della settimana secondo la classifica Fimi. Quando ci hanno detto che eravamo arrivati secondi, quindi avevamo sventato il pericolo di aver vinto il Festival di Sanremo, abbiamo fatto un casino unico sul palco. Solo non ci hanno inquadrato, forse anche per fortuna. Stato sociale e impegno politico, non un caso per cinque ragazzi nati e cresciuti a Bologna. A Bologna sono successe delle cose, ma non stanno succedendo solo a Bologna. Insomma, negli ultimi anni in Italia c'è un'avanzata forte delle destre, anche estremiste. E forse è la cosa, come dire, per cerchersi più preoccupante. Io, in qualche modo in nome della band, mi ero esposto dicendo che non era giusto nei confronti di una città come quella di Bologna ospitare il comizio di Forza Nuova. Sì, è uscita come una cazzata, è uscita come una cazzata e poi quelle cazzate che poi ti guardi e dici, però sai che... Bravo, bella idea, bella idea. Teniamola, teniamo. Sì, è stata un'idea del nostro manager fondamentalmente, Matteo Romagnoli. Però stavo pensando di prenderci in giro, invece noi gli abbiamo detto, bravo. Questa era la nostra ultima notizia, vi ricordiamo che la nostra informazione prosegue sui canali social e sul nostro sito lumsanews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima edizione del Tg di Lumsanews.